E io come me lo metto? Così, la stessa cosa, a voi, tra di voi, perfetto Mi raccomando, voi mi sembrate i migliori Ok Mi raccomando, parlate, non mi faccio stare Ok Silenzio, dai Ok, silenzio Motore Partito Chuck, scena 4, take 1, roll 1 Allora, come ti chiami? Io mi chiamo Giulia Io Sofia Io mi chiamo Salvatore Io Riccardo Io sono Nora Sofia Marco Daniela Martina Carla Gabriela E quanti anni hai? Io ho 8 8 e mezzo 8 8 8 e mezzo 8 e mezzo 10 8 8 6 10 Qual è il tuo sport preferito? Per lavoro Motare Calcio Calcio Per lavoro Moto Carata Calcio Moto Carata Il calcio E in amore come va? Sei fidanzato? No 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 Sì, no Sì, sì No 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 Mi sono lasciata da poco Ora parliamo un po' di attualità, chi è il presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella E il presidente del Consiglio? Matteo Renzi Renzi Matteo Renzi 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 Matteo Renzi Matteo Renzi Ti piace Renzi come politico? No Io sì No Per le sue motivazioni sì No No Non avendolo mai incontrato non lo posso dire Com'è secondo te la giornata tipo del presidente della Repubblica? Piscina e gli amici Lavoro e basta Io non lo so Non lo so né io Né io Lavora Lavora molto Cerca di migliorare l'Italia Lavora molto e va a letto credo a mezzanotte Cerca di migliorare l'Italia, di fare trattativi di pace per le guerre Dove vive? Com'è casa sua secondo te? Bellissima Lussuosa Alta Molto Bellissima Lussuosa È una casa gustosa e una macchina gustosa Bellissima, bella Quali caratteristiche dovrebbe avere il presidente della Repubblica? Dovrebbe avere molte iniziative E dovrebbe fare le giuste cose per le città Buone Un passo Sarebbero quelle di migliorare l'Italia o molte regioni che non hanno veramente bisogno C'è qualcosa che non funziona secondo te in Italia? Il presidente potrebbe fare qualcosa? Io non lo so Si dovrebbero migliorare soprattutto qualsiasi che accade le situazioni delle strade No Se troppa guerra Le città Migliorare i luoghi Che ci sia Più pace Che ci sia più pace e niente guerra La crisi o anche il terrorismo in Francia E il sindaco di Sciacca secondo te in quel palazzo che fa? Mangia Lavora e cerca di migliorare Lavora Cerca di migliorare la Sciacca Al comune secondo me cerca di migliorare tutte le città anche della Sicilia non solo di Sciacca C'è qualcosa che non ti piace di Sciacca e che vorresti dire al sindaco? Perché non migliori i parchi che sono tutti rotti e così Migliorare il traffico delle strade Sì, più attrezzature per giocare Migliorare la nostra città Che migliori la città Secondo me di migliorare per esempio il porto, la piazza Tu guardi mai il TG? Sì Perché mio papà me lo fa guardare Io ogni volta a pranzo qualche volta che mio padre lo mette sempre No, sì perché mio padre me lo fa guardare tutti i giorni Cosa si potrebbe fare per fermare il terrorismo e le guerre? Si potrebbe fare un patto Sì Più pace Più pace Più pace E meno guerra Amore Amore Cosa vorresti fare da grande? Io vorrei fare la maestra di italiano Io la truccatrice Il calciatore Quale nome? Calciatore Niente Maestro Direttore calcistico La maestra di matematica Maestro di karate Ancora non lo so sinceramente Vorresti avere una famiglia, dei figli? Tanti figli Due Basta che non siano monelli No, sposare io Sì Figli e pochi Sì Sì Ora guardate in macchina e salutate dicendo ciao on the road Ciao 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 on the road Ciao on the road Ciao on the road Ciao on the road